In Italia non esiste una disparità di genere e i femminicidi sono episodi sporadici. Ma veramente? Ciao, sono Anna Toniolo e questo è Veramente, il podcast di Facta News. Sabato 18 novembre 2023, la procura di Venezia ha annunciato di aver trovato, nei pressi del lago di Barchis, in provincia di Pordenone, il corpo di Giulia Cecchettin, per il cui femminicidio è accusato l'ex partner, arrestato in Germania il 19 novembre. Nei giorni successivi i social, ma anche le strade e le piazze, sono stati inondati dalla tristezza e dalla rabbia di persone che chiedono che questo tipo di violenza finisca, che chiedono dignità, parità e soprattutto libertà per le donne, che continuano a morire per il solo fatto di essere donne. Allo stesso tempo però, sulle piattaforme e anche su alcuni mezzi di stampa, si è diffusa un'altra narrazione che tenta di negare il problema. Sostenendo che i femminicidi in realtà siano episodi sporadici e che non ci sia un problema sistemico che discrimina le donne in molti ambiti della loro vita. Ecco, questa narrazione è falsa e guardando e contestualizzando i dati è possibile affermare che l'Italia non è ancora un paese per donne. Tra il 1 gennaio e il 19 novembre 2023 sono state uccise 106 donne, 87 di queste in ambito familiare, e 55 da partner o ex partner. Come avevamo spiegato nell'episodio 77 di Veramente, attraverso le parole di Maria Giuseppina Muratore, responsabile Istat del gruppo di lavoro sulla violenza di genere, ogni anno le donne uccise da partner o ex partner sono tra il 55 e il 60% del totale, mentre per gli uomini questo dato è fisso al 3%. Il femminicidio è stato definito dalle Nazioni Unite come un'uccisione intenzionale con una motivazione legata al genere e che può essere motivato da ruoli di genere stereotipati, discriminazione nei confronti di donne e ragazze, relazioni di potere ineguali tra donne e uomini o norme sociali dannose. Tuttavia ad oggi non esiste una definizione comune di femminicidio e in Italia non è previsto un reato ad hoc, ma questo tipo di violenza rientra nella categoria degli omicidi. Nonostante ancora non esista una formulazione comune per definire appunto il femminicidio, è possibile dire che questo rientra nel fenomeno più ampio della violenza di genere, cioè quella che viene esercitata in varie forme dagli uomini nei confronti delle donne, come risultato degli stereotipi legati ai ruoli di genere che vengono tradizionalmente veicolati dalla società. Il femminicidio, infatti, è l'espressione massima di una discriminazione che le donne vivono costantemente in molti ambiti della loro vita. È la punta di un iceberg profondo, formato da squilibri di potere ed economici che stanno alla base della violenza. Il Women Peace and Security Index del 2023-2024, cioè un indice messo a punto dal Peace Research Institute di Oslo, insieme al Georgetown University's Institute for Women, che attraverso 11 indicatori esamina e quantifica diverse dimensioni di inclusione delle donne, ha messo l'Italia al 34esimo posto nel mondo e addirittura al 24esimo posto in Europa. Come dimostrano i dati, infatti, la strada verso l'uguaglianza di genere, che passa dalla parità degli stipendi, uguale rappresentanza nella politica e nelle posizioni di potere, la tutela dei diritti e l'assenza di violenza e discriminazioni sembra essere ancora lunga nel nostro paese. Uno degli ambiti in cui la disparità tra uomini e donne è più evidente è quello del lavoro. Nell'Unione Europea la retribuzione oraria lorda media dei dipendenti maschi è superiore del 13% rispetto a quella delle donne. E questo significa che, per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna ne guadagnerà solo 0,87. Tale divario retributivo di genere, o gender pay gap, equivale a una differenza di circa un mese e mezzo di stipendio all'anno. La Commissione Europea ha stabilito che l'Equal Pay Day, cioè la data che simboleggia quanti giorni in più le donne devono lavorare fino alla fine dell'anno per guadagnare quello che gli uomini hanno guadagnato nello stesso periodo, nel 2023 è stato il 15 novembre. Ma in Italia qual è la situazione? Nicoletta Pannuzzi, dirigente del Servizio Sistema Integrato Lavoro, Istruzione e Formazione dell'ISTAT, ci spiega qual è la situazione del gender pay gap, o GPG, nel nostro paese. Allora, il differenziale retributivo di genere, appunto noto come gender pay gap, misura la differenza retributiva di uomini e donne ed è calcolato come differenza percentuale tra la retribuzione oraria di uomini e donne rapportata a quella maschile. Il termine, ovviamente, e l'indicatore fa riferimento a specifici standard internazionali. In Italia il differenziale di genere, quindi tra le retribuzioni orarie medie, viene calcolato nelle imprese e istituzioni pubbliche con almeno 10 dipendenti e nel 2021, ultimo anno per cui l'indicatore è disponibile, quello relativo al 2022 sarà disponibile all'inizio del 2024, è pari al 6,1%. Cosa ci dice quindi? Che le donne vengono mediamente retribuite il 6,1% in meno degli uomini. L'Italia si caratterizza per un valore, diciamo, relativamente basso rispetto agli altri paesi europei. Consideri che il GPG europeo si attesta al 12,7% e valori inferiori a quelli italiani si rilevano solo per Polonia, Slovenia e Romania. Questo risultato è dovuto al fatto che in Italia c'è una maggiore presenza di donne nel comparto a controllo pubblico e si sa, e questo è vero per molti paesi, se non addirittura per tutti, il GPG in questo particolare settore è più contenuto. Se infatti ci limitiamo a considerare il comparto a controllo privato, il GPG italiano sale al 15,5% e diventa superiore a quello di 11 paesi, tra cui Spagna e Portogallo. Il divario retributivo si allarga con l'età. durante la carriera e parallelamente crescenti bisogni familiari, mentre è piuttosto basso quando le donne entrano nel mercato del lavoro. Si passa infatti da un valore pari al 3% per gli under 25 al 9,2% per chi ha tra i 55 e i 64 anni e raggiunge il valore più elevato, pari al 15,8%, tra i lavoratori con almeno 65 anni d'età. Quindi da un lato le donne, più spesso degli uomini, presentano interruzioni di carriera frequentemente legate alla nascita di figli e alla cura della famiglia. Dall'altro il divario retributivo però cresce all'aumentare del livello professionale, soprattutto per le professioni in cui la presenza femminile è contenuta. Tra i dirigenti infatti il GPG è più elevato e addirittura è superiore al 25%, mentre scende al valore minimo proprio tra le professioni non qualificate. E se consideriamo l'andamento per titolo di studio, troviamo la stessa evidenza, cioè il valore più elevato del GPG è tra i laureati. Come ha spiegato a Facta News Paola Villa, economista e docente presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento, è importante però contestualizzare i dati per capire davvero le differenze che esistono nell'ambito del lavoro tra uomini e donne. Per comprendere le ragioni sottostanti alla reale discrepanza di partecipazione nel mondo del lavoro di uomini e donne, bisogna guardare sì alle più basse retribuzioni orarie delle donne, ma anche al loro minore monteore lavorato in un anno e la minore anzianità contributiva. E per spiegare questi fattori, bisogna guardare alle scelte fatte nel corso della vita adulta sia da donne che da uomini, che sono condizionate dalla persistenza di norme sociali e stereotipi. Secondo Paola Villa, i principali fattori che rimandano alle differenze molto marcate tra uomini e donne vanno dalle scelte di istruzione al più difficile inserimento delle giovani donne nel lavoro retribuito, fino alla penalizzazione della maternità nel mercato del lavoro e infine alle diverse opportunità che uomini e donne hanno nelle progressioni di carriera. Sempre secondo Villa, se noi guardiamo all'Italia, il differenziare salariale non è molto elevato. E questo perché nel nostro Paese abbiamo molte donne che nel mercato del lavoro non ci entrano proprio. E l'aumento del tasso di occupazione femminile in Italia è ormai da tantissimo tempo molto più lento della media degli altri Paesi in Europa. Se per la realizzazione di sé e per fare scelte libere e autonome l'indipendenza economica è la base, l'inoccupazione e il differenziale salariale contribuiscono a rendere le donne più deboli in una società in cui gli uomini hanno un'autonomia lavorativa ed economica più elevata. La differenza nel mondo del lavoro tra uomini e donne si può trovare anche nel fatto che, in media, le donne svolgono più ore di lavoro non retribuito, per esempio prendendosi cura dei figli o badando i lavori domestici. Tutto ciò implica una minore disponibilità di tempo per il lavoro retribuito, ma anche una maggiore propensione alle interruzioni della carriera per motivi che riguardano la cura dei figli e dei familiari e soprattutto comporta un maggior carico fisico e mentale per le donne rispetto agli uomini. Come ha evidenziato un rapporto del 2020 dell'International Labor Organization, un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti che riguardano il lavoro, in Italia le donne svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito di assistenza e cura al giorno, mentre gli uomini 1 ora e 48 minuti. Le donne italiane, quindi, si fanno carico del 74% del totale delle ore di lavoro non retribuito di assistenza. Ma non è finita qui. La partecipazione delle donne sempre al mondo del lavoro è inibita anche dal fatto che queste sono vittime in molti casi di molestie subite proprio sul luogo di lavoro. Per avere un quadro chiaro sulla questione abbiamo chiesto a Tatiana Bagioni, avvocata giuslavorista e presidente di AGI, Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani, di spiegarci prima di tutto se esistono dei dati che ci diano la misura di questo fenomeno. C'è un'indagine ISTAT che è datata, perché è stata pubblicata il 13 febbraio del 2018 e si riferiva all'anno 2016, che dà un quadro di questo paese veramente inquietante dal punto di vista dei molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Perché parla di 1.404.000 donne molestate sui luoghi di lavoro. E pare che analizzando anche i dati INEAL si vede che ci sono delle denunce che riguardano anche situazioni di violenze sui luoghi di lavoro in costante incremento. Non ho i dati INEAL in questo momento in mio possesso. Quello che però il rapporto ISTAT dice e l'aspetto statistico nel diritto antidiscriminatorio è un aspetto fondamentale anche proprio per chi come me fa la giuslavorista. Ci dicono proprio che c'è una... Io lo chiamo un fiume carsico che ci scorre sotto i piedi che noi non riusciamo a intercettare perché a fronte di questo 1.404.000 donne molestate in realtà quasi l'81% non ne parla con nessuno. Quindi nemmeno con un'amica, con una persona a cui confidarsi. Questo vuol dire che c'è una, come dire, sfiducia soprattutto e questo lo dice anche l'indagine ISTAT nelle istituzioni, in chi dovrebbe in qualche modo tutelare queste donne ma forse anche nel luogo di lavoro dove operano quindi in qualche modo si gestiscono in autotutela. Questo vuol dire cercano un altro lavoro vuol dire non fanno straordinari non si trovano, cercano di non trovarsi da sole con questa persona cioè mettono in atto tutta una serie di meccanismi per tentare di, come dire, tutelarsi oppure per esempio chiedono di andare se l'azienda è grande in un altro ufficio in un'altra sede ma questo lei comprende facendo un grave danno alla propria professionalità perché è alla propria carriera perché il fatto che l'essere molestata fa sì che devi cambiare lavoro devi cambiare zona devi cambiare ufficio devi cambiare in qualche modo interrompere tutto il percorso di formazione professionale che avevi avviato è chiaramente un grave danno. Ecco, fino a qui abbiamo visto come le donne nel mondo del lavoro subiscono una serie di discriminazioni e violenze che non possono essere ignorate ma gli ambiti della vita in cui esistono disparità non sono purtroppo finiti un altro settore è infatti quello dell'istruzione nonostante negli ultimi decenni ci sia stata un'inversione di rotta infatti oggi le donne tendono ad essere più scolarizzate degli uomini le maggiori competenze acquisite non si traducono in maggiori tassi di occupazione né in redditi più alti mantenendo vivi gli squilibri di genere le ragazze infatti sono ad esempio sotto rappresentate nei percorsi di studi scientifici secondo un rapporto del 2022 di Alma Laurea nei corsi universitari di primo livello le donne costituiscono una spiccata maggioranza nei corsi di studi che riguardano l'educazione e la formazione linguistici, psicologici, medico-sanitari e nell'arte design mentre al contrario sono una minoranza nei gruppi di studio che riguardano informatica e tecnologie per esempio dove costituiscono solamente il 13,7% ingegneria industriale dell'informazione e scienze motorie sportive e una distribuzione simile si rileva anche all'interno dei percorsi magistrali biennali poiché si tratta di percorsi di studio che offrono in generale maggiori opportunità lavorative se poche donne vi accedono i divari di genere nel mondo del lavoro sono destinati a cristallizzarsi rilevazioni internazionali condotte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico conosciuta anche come OXE hanno rivelato che esiste una tendenza dei genitori ad avere maggiore fiducia nelle possibilità dei figli maschi di lavorare in ambito scientifico alla base della quale vi è un pregiudizio diffuso che viene spesso interiorizzato non solo dalle famiglie ma anche dalle stesse ragazze in realtà uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista scientifica Science of Learning ha dimostrato che non ci sono evidenti differenze nel modo in cui il cervello elabora i processi matematici tra i due generi questa disparità però ha conseguenze dirette sulla fiducia delle bambine e delle ragazze nel riuscire in ambito scientifico infatti come è dimostrato una ricerca di Open Police in Italia tra i 15 anni con i migliori risultati in matematica e scienze i ragazzi prevedono di lavorare in campo scientifico o come ingegneri nel 26% dei casi mentre per le femmine la percentuale si abbassa al 12,5% nonostante i tentativi di incoraggiare le diversità di genere nella scelta del percorso di studi e delle carriere la strada verso la parità è ancora lunga e infine vale la pena puntare i riflettori sul tema della salute diversi studi hanno recentemente dimostrato come esista quello che viene chiamato gender pain gap cioè una serie di pregiudizi nei confronti dell'espressione del dolore da parte delle donne che influenzano negativamente la diagnosi e il trattamento delle loro condizioni di salute quando il dolore fisico delle donne viene liquidato come esagerato immaginario oppure erroneamente diagnosticato come psicologico la loro salute e la loro vita ne risentono ad esempio negli Stati Uniti le donne aspettano in media 16 minuti in più rispetto agli uomini per ricevere i farmaci dopo aver segnalato per la prima volta un dolore addominale e hanno il 7% in meno di probabilità rispetto agli uomini di ricevere quel trattamento in primo luogo ma non solo l'errata interpretazione del dolore femminile come collegato all'ansia per esempio contribuisce a far sì che le donne abbiano circa il 50% in più di probabilità di ricevere una diagnosi errata dopo un attacco di cuore e l'Italia non è esente da questa disparità nell'ambito medico nel nostro paese ad esempio sono affette da endometriosi cioè un'infiammazione cronica degli organi genitali femminili causata dalla presenza anomala di cellule endometriali tra il 10 e il 15% delle donne in età riproduttiva l'endometriosi è causa di riduzione della fertilità o addirittura infertilità e l'impatto della malattia è alto ed è connesso alla riduzione della qualità della vita ma il ritardo diagnostico è valutato intorno ai 7 anni il dolore cronico di cui soffrono soprattutto le donne è infatti poco studiato e poco finanziato anche Samu Lovitz autrice di una revisione sistematica di studi sul tema ha spiegato a Valigia Blu che questa disparità può dipendere dall'impostazione androcentrica della medicina in quanto per molto tempo è stata praticata principalmente da uomini e le donne sono state escluse dalle ricerche mediche anche Samu Lovitz autrice di una revisione sistematica di studi sul tema ha spiegato a Valigia Blu che questa disparità può dipendere dall'impostazione androcentrica della medicina in quanto per molto tempo è stata praticata principalmente da uomini e le donne sono state escluse dalle ricerche mediche come riportato dal piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere del Ministero della Salute Italiano gli effetti di molti farmaci sono stati studiati prevalentemente su soggetti di sesso maschile e il dosaggio nella sperimentazione clinica definito su un uomo del peso di 70 kg un discorso analogo può valere per le prestazioni dei dispositivi medici e gli effetti del loro utilizzo in Italia si parla di medicina di genere ma la disparità che ancora esiste in ambito sanitario vede l'uomo come standard e le donne e le persone trans come eccezioni con conseguenze chiaramente sulla loro salute come ritardo diagnostico e svalutazione del loro dolore il peso delle malattie che causano dolore è in aumento nelle donne di tutto il mondo e per questo è fondamentale che le cause e le conseguenze delle disparità nelle risposte cliniche siano adeguatamente comprese affrontate e mitigate quando si parla di disparità di genere in Italia ma anche nel mondo è quindi sicuramente fondamentale fare riferimento ai femminicidi e alle violenze fisiche che le donne subiscono costantemente ma è altrettanto cruciale determinare il contesto in cui questi fatti avvengono i dati italiani descrivono un contesto in cui la disparità e la discriminazione di genere sono presenti in molti ambiti della vita quotidiana delle donne dal lavoro all'istruzione fino alla salute e questo contribuisce a rafforzare una struttura sociale in cui gli uomini occupano posizioni di potere e privilegio che li mette inevitabilmente su un piano differente rispetto alle donne fino a sfociare in alcuni casi nell'atto più violento ed efferato il femminicidio appunto Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie Sceglie a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Twitter Facebook Instagram e TikTok Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843 Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp Il podcast di Facta News è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo è prodotto da Jessica Mariana Masucci Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di Facta News Grazie a tutti